Nel recente episodio di Affari tu hai trasmesso il 5 settembre 2024, un momento inaspettato ha colpito sia il pubblico in studio che il conduttore Stefano De Martino. Eleonora, proveniente dalla Calabria, ha annunciato qualcosa di sorprendente che ha introdotto un'atmosfera di tristezza nello studio, cogliendo tutti di sorpresa, compreso De Martino. Eleonora, rappresentante calabrese e concorrente della serata, ha portato un'ondata di energia e calore familiare. Accompagnata da sette dei suoi fratelli, ha creato un'atmosfera memorabile, mostrando che il gioco di affari tu hai non ruota solo intorno alla fortuna, ma è anche un'affermazione di legami affettivi e momenti di gioia condivisi. Un dettaglio sorprendente è emerso riguardo alla sua partecipazione al programma. Eleonora, che gestisce un bed and breakfast e lavora come istruttrice subacquea, era stata originariamente esclusa all'ultimo momento come opinionista di grande fratello per far posto a Beatrice Luzzi, creando un clima di rivalità. Nonostante la delusione, Eleonora non si è lasciata scoraggiare e ha deciso di partecipare a Affari Tuè per un motivo molto personale e commovente. Ha spiegato che la motivazione principale dietro la sua partecipazione era legata alla sua famiglia, in particolare alla sua anziana madre Giuseppa, che ha 91 anni. Io insieme ad alcuni miei fratelli vogliamo portare avanti un progetto, ha detto Eleonora, rifarendosi alla volontà di ristrutturare una proprietà ereditata dalla madre per renderla vivibile, soprattutto per lei. Questo gesto evidenzia il profondo legame familiare e l'impegno nei confronti della madre, che ha sempre amato Affari Tuoi e, quando poteva vedere il programma, indovinava sempre le mosse del gioco. Eleonora ha concluso con un tocco emotivo, io mi trovo qua per mia madre, lei adora Affari Tuoi. Finché ci vedeva, indovinava sempre tutto. Durante la puntata di Affari Tuè del 5 settembre 2024, Eleonora ha condiviso un dettaglio toccante sulla sua madre, Giuseppa, che, nonostante abbia perso la vista alcuni anni fa, continua a seguire il programma con grande affetto, tenendo il viso vicino al televisore per sentire meglio i suoni. Sensibile a questa dichiarazione, il conduttore Stefano De Martino ha espresso il suo affetto, allora mandiamo un bel bacio sonoro a mamma Giuseppa, un gesto che ha riscaldato il cuore di tutti in studio. Il clima familiare e intimo si è ulteriormente intensificato quando Tonino, uno dei fratelli di Eleonora e suo compagno di gioco per la serata, è stato presentato al pubblico. Poi è stata la volta di Aurora, la sorella maggiore, che ha raccontato un aneddoto della loro infanzia, Eleonora, nata prematuramente al settimo mese, era molto fragile e per questo veniva chiamata affettuosamente l'Aracchia. Stefano, con un sorriso, ha commentato, una cosa tenera, l'Aracchia. Il gioco è proseguito con uno spirito allegro e ottimista. Eleonora ha mostrato grandi abilità e fortuna, aprendo pacchi che contenevano solamente cifre blu, eliminando rapidamente il pacco da 100.000 euro, il che ha elevato il morale e l'entusiasmo in studio. Nonostante le offerte crescenti del dottore, che hanno raggiunto fino a 33.000 euro, Eleonora ha continuato a rifiutare, mostrando una forte determinazione e fiducia nella sua strategia di gioco. Infine, dopo una serie di pacchi aperti e offerte declinate, Eleonora ha deciso di accettare l'ultima offerta del dottore di 28.000 euro. Anche se alcuni spettatori hanno espresso perplessità riguardo alla sua decisione, il bottino finale è stato accolto con grande entusiasmo da parte di tutti, chiudendo la serata con un clima di festa e celebrazione.